Buongiorno, oggi 20 settembre 2012, siamo ancora nel bosco, entrati subito ci siamo imbattuti in questo estatino, va bene. Grazie. Un'estatino. Grazie. Questo è bello ragazzi. Mamma mia. E sotto ce n'è un altro. Che funghi. Strada. Sul margine due statini. Primo. Il secondo. Adopo. Un'estatino. 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 Lidia. Un'estatino. 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 profuma profumato Amazzo questo ho schiacciato purtroppo abbiamo schiacciato vedo dove stanno i altri questo è pura patatona un po' giallino però va bene così questo un'altra ce n'è un'altra più giù eccolo e questo è un'altra metà di porcino tutti freschi mangiati a dopo un paio di ovuli non fanno male nell'insalata uno ah ce n'è un altro che sta uscendo vicino due e questo è il più bello della giornata e tre va bene a dopo ho visto una signora che è passata di qua penso che l' abbia schiacciato dai qui il porcino fresco fresco quando uno va di fretta qua dietro ho visto un altro dove sta ecco 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 un bel gambo a dopo a dopo questo è sotterrato l'ho rotto fa niente a dopo qua questo era ben nascosto vedete mia mamma ha trovato i porcinelli bruno è un porcino bello guardatelo dietro dietro la dietro la rete andiamo da cavare bello 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 fresco fresco bello 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 abbiamo per soldi da stagione Allora Allora Questa l'ha trovata mia mamma Ok Allora Allora I che crocca ecco il ritrovamento di Giulia girala un poco fai vedere bianco giro la sotto fai vedere sotto è bianca va bene a dopo ah è russi bianco un'altra estatina un altro l'ho avvistato qua è stato avvistato qua vicino alla strada un'altra ancora è stato avvistato qua è stato avvistato qua bello il gambo ammazzo che fungo che fungo che fungo va bene ancora aereus è stato avvistato e anche c'è un fratello un angelo va bene va bene va bene va bene va bene bella estivalis dopo pausa pranzo di nuovo di nuovo di nuovo alle ricerche eccolo va bene in un pioppo in un pioppo gli alberi bisturi eccolo qua ecco qua eccolo qua faccio un piccolo va bene va bene un' un'obloppo e un'obloppo va bene e un'obloppo in un'obloppo in un'obloppo in un po' in un'obloppo in un'obloppo in un' empreso Grazie a tutti. 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 Un po' passato, però sembra un porcino. Questa si può mettere a seccare. E' duro ancora. Va bene. Aereus, nero, bronzino, patatino, biscottino. E' bello questo. E' rosicciato dalle tomate. E' rosicciato dalle tomate. E' un po' passato. E' buono ancora. E' bianco sotto. E' bianco sotto, senza fermi. E' bianco. E' bianco. E' bianco sotto, senza fermi. viva, morta, morta. Questo può solo mangiare. Questo è un altro più grande. questo è durissimo due neri dopo a 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